Sarà una sfida tutta al femminile quella per la provincia di Arezzo. Sono infatti due donne le candidate per la carica di presidente, per il centrodestra il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e per il centrosinistra il primo cittadino di Civitella in Valdichiana, Ginetta Menchetti. Il termine per la presentazione di liste candidati per le elezioni del presidente del consiglio provinciale di Arezzo è infatti scaduto alle 12 di oggi. Due le liste presentate per il consiglio, comuni per la provincia e centrosinistra per Arezzo. L'ufficializzazione dei candidati a presidente dei nominativi dei candidati al consiglio provinciale saranno resi noti entro il 16 ottobre dopo le necessarie verifiche da parte dell'ufficio elettorale. Si voterà infine per il nuovo presidente della provincia il prossimo 31 ottobre. L'esito ovviamente resta al momento incerto ma di sicuro invece c'è che alla guida dell'ente dopo l'addio di Roberto Vasai per la prima volta ci sarà una donna.